Le squadre erano abbastanza vicine nel centrocampo, stanno giocando a viso aperto, vediamo, si prospetta una buona partita. Il rilancio da parte di Rengli all'altezza della trequarta, riconquista, palla, 20, avanza, pensa al tiro, 20, carica il destro, un gran tiro che finisce sul palo! Guttiere statunitense, Falsoi, poi Bellini, Apuzzo a cercare Marra che viene anticipato a netto, al limite dell'area di rigore, ancora Gabrielli, la conclusione, pallone alto, buono questo spunto! Prosegue l'azione della nostra nazionale con Venti, il tocco fuori per Falsoi, Falsoi con l'esterno del piede destro fa proseguire Bellini, al colo ancora il giocatore della Locomotive Roma, il suggerimento al centro dell'area di rigore, il tiro di Apuzzo, e pallone alto della formazione statunitense, palla recuperata da Apuzzo che prova ad innescare Venti, controlla il pallone Venti, rientra sul destro, potrebbe concludere, effettua un tiro che si rivela troppo debole per impensierire il portiere avversario. Guttiere statunitense ad un retropassaggio, McCarthy per il numero 16 Beckhaus che attacca centralmente, buona questa trama dei nostri avversari, il cross sul secondo palo, il colpo di testa e poi un tiro che termina altissimo. 0-0 quando siamo al terzo minuto della ripresa, Alessandro Fiori, attenzione adesso a Mininni che di forza va a riprendersi il pallone, poi lo perde, grande uscita di San Filippo. Carlo al rinvio in una zona presidiata soltanto da giocatori americani, poi Marra, gran controllo, c'è anche Falsoi che sta sopraggiungendo, Marra vede arrivare Berardino, area di rigore, tiro e parata del portiere Saitar. Saitar, soltanto Marra è rimasto fuori dell'area di rigore, il pallone in area esce San Filippo, riesce a toccare con un pugno, il pallone resta ancora in area di rigore, il tiro che termina di poco alto. Il pallone della nostra nazionale è Daniele Andreozzi che naturalmente è prodigo di consigli, di indicazioni nei confronti dei suoi giocatori. Calcio d'angolo che viene battuto con traiettori ad uscire, lo stacco di Mininni e il pallone che viene respinto di testa. Veidner che si è persa di poco alta. Adesso Marra vede arrivare Breschini, attenzione, in area di rigore, il passaggio è clamoroso, questo gol fallito da Berardino. C'è spazio per Wakefield che pesca sull'estremo settore di sinistra, Veidner il cross immediato di Carlo, vuoto, poi il tiro, grande parata di San Filippo, doppio intervento di San Filippo, ancora una conclusione, il pallone che esce ha sfiorato il vantaggio ripetutamente. Bellini e Di Carlo restano fuori dall'area di rigore, anche Berardino a dire il vero, la battuta all'altezza del primo palo, c'è un rinvio, pallone allontanato, Piperno carica il sinistro, traversa, pallone che resta in campo e poi finisce la sua corsa oltre la linea di fondo, avversari sicuramente quotati, avversari che giocano nella terza divisione del campionato universitario americano. Attenzione, forse in posizione regolare, grande, ancora San Filippo strepitoso, era una posizione sospetta.